Il Vinao perché è una fondazione? Poi io mi avvalgo molto delle slide ma vado a braccio, quindi comunque poi ci sarà anche un momento question time perché sicuramente ci sono un sacco di domande, non è un problema, le possiamo affrontare insieme, mentre gli aspetti più tecnici, molto più tecnici eventualmente poi li affrontate con l'ingegnere Mastrandrea che è venuto con me. Perché una fondazione? Il Vinao che è il progetto da cui è partito tutto è finlandese, in Finlandia ci sono sicuramente meno problemi per i veicoli elettrici e quando abbiamo parlato poi con i colleghi finlandesi dicendogli noi vogliamo portarlo in Italia e seguire noi il marchio per tutta l'Europa, ci hanno detto beh se funziona in Italia sicuramente funziona in tutto il mondo. Come sapete più burocratica dell'Italia su qualsiasi aspetto effettivamente, forse c'è un paese vicino all'Ucraina ma di sicuro pochi. No no ma questo poi vedremo che invece è un aspetto interessantissimo, perché anzi ci arrivo subito, perché parliamo di complicatezza burocratica, in America puoi trasformare la sedia dove siete seduti in elettrica e andare sull'autostrada, perché come ricordava prima anche Roberto c'è un codice penale abbastanza serio sul fronte automotive, quindi superi la velocità, vieni arrestato, guidi ubriaco, vieni arrestato, guidi una sedia a rotelle con un motore elettrico che ti spinge a 200 km orari e ti ammazzi, ammazzi qualcun altro, sei imputato, non è burocratico come in Europa il poter aggredire direttamente il proprietario di veicolo. Quindi vuol dire che la responsabilità te la prendi completamente tu, però puoi andare in strada con qualsiasi cosa. In Europa fortunatamente c'è un livello tale di sicurezza richiesta ai veicoli, e voi la conoscete bene, che non ha pari al mondo. E questo è importante, è importante perché le auto elettriche, come la Tesla ad esempio, devono essere sicure se non più sicure delle auto normali, perché prima di tutto devono superare un'inerzia che è quella della paura del veicolo elettrico, e poi devono arrivare ad essere sulla strada delle vetture sicuramente valide, sicuramente 5 stelle euro in cap. Perché? Perché l'elettrico, noi l'abbiamo fatto con un'auto, che questo è un carro armato, non è un'auto, pesa due tonnellate e cento a vuoto, quindi quando è stata trasformata effettivamente è una macchina assurda. Però le auto, anche quelle che affronteremo nell'idea che è quella comune del retrofit, devono essere delle auto in grado di andare sulla strada. Perché noi lavoriamo con il Ministero dei Trasporti, il Vitelli che è il dirigente del Ministero dei Trasporti, dice se la macchina è identica alla macchina originale, quindi con tutti i parametri originali, noi omologhiamo in Italia. Quindi poi sull'aspetto del retrofit ci ritorniamo, però era importante ricordare che a volte la normativa, a volte dei parametri, dei paletti abbastanza alti, danno la qualità. Noi siamo il paese che produce le auto forse più belle del mondo, diciamo che la Ferrari sicuramente è importante a livello mondiale. Ecco, rispetta dei parametri ed è a livelli di ingegnerizzazione elevatissimi, Quindi noi dobbiamo riportare anche nel fronte automotive elettrico gli stessi parametri, per non poter essere aggredibili dal punto di vista anche mediatico, non solo quindi tecnico. Perché? Perché comunque devono essere auto eccezionali dal punto di vista tecnico. Buona, quindi arriviamo al discorso del corso retrofit. Quindi noi cosa abbiamo fatto in Italia, cosa stiamo facendo adesso? Portiamo avanti un progetto nazionale di corso sul retrofit e di trasformazione di vetture endotermiche in vetture elettriche insieme alla Confartigianato Italia. Siamo stati agganciati a Confartigianato, marca trevigiana, quindi di Treviso, due anni fa, abbiamo portato avanti i discorsi potendo vedere se ci fosse un'economia di scala. Senza economia di scala l'elettrico non funziona, soprattutto la trasformazione. E ovviamente abbiamo affrontato il parametro omologazione, non si può fare oggi. Quindi non puoi trasformare una macchina a benzina in elettrica e poi andare in strada, dopo ti rispondo. Il problema è quello di riuscire ad arrivare a parametri di omologazione molto elevati. Come si fa? Si fa lavorando ovviamente su tutta la normativa insieme al Ministero dei Trasporti. Non c'è nulla da fare. Sotto questo punto di vista quindi la trasformazione del veicolo potrebbe essere un parametro, un'attività economica molto interessante a livello italiano perché è parallela, come si diceva prima, non c'è la guerra nell'elettrico oggi, c'è un'alleanza continua. Ogni evento che facciamo, io conosco tutti quelli che operano nel mondo dell'elettrico attualmente in Italia ed è una cosa importante perché vuol dire ovviamente che è ancora piccolo ma c'è del fermento e sta crescendo. L'elettrico retrofit dal punto di vista delle case automobilistiche non è visto come un avversario, anzi è un modo per aiutare a incrementare il veicolo elettrico sulle strade, anche quello nuovo, perché noi lavoriamo anche con le case che si occupano di nuovo. Però il retrofit potrebbe avere la sua fetta, la sua nicchia, anche quella di alta gamma che potrebbe essere la trasformazione ad esempio di auto storiche come abbiamo fatto noi. Voi sapete che puoi avere l'auto storica più bella che vuoi ma se la domenica c'è il blocco non c'è più la deroga. Fino a qualche anno fa c'era la deroga per le auto storiche iscritte, oggi non c'è più deroga, quindi comunque non ti potrai muovere. Anche quello è una nicchia ideale per il retrofit. Poi qui abbiamo un grande rappresentante del retrofit che è la Tesla. La Tesla è partita con un'auto trasformata in elettrica. Quindi si è presa alla base di una vettura endotermica, una bellissima vettura endotermica, la si è trasformata, arricchita, pimpata come vettura completamente elettrica. Quindi ha una base ingegneristica importante. Ma l'altra cosa che volevo sottolineare sul retrofit è che apre una mentalità, quindi porta il meccanico, l'officina, piuttosto che il gruppo di tecnici che opera sul retrofit, sull'elettrico. Perché? Perché nel retrofit andando a mettere mano a vetture endotermiche che vengono trasformate in elettrico, ci si smalizia già sul veicolo elettrico e sul veicolo ibrido. Chi di voi ha già messo mano su un veicolo ibrido di ultima generazione, una Lexus piuttosto che una Toyota di cui si diceva prima? Ha un approccio completamente diverso, batteria ad alta tensione, sicurezza elettrica che bisogna rispettare, ci sono tantissimi parametri che un corso sul retrofit o comunque in generale un'alfabetizzazione dal punto di vista del retrofit può aiutare a impostare quella che è ormai una strada a senso unico. Oggi è il librido, il librido seriale, il librido parallelo, l'elettrico si sta avvicinando ma il futuro è quello. Noi lo vediamo con le case automobilistiche, le auto saranno elettriche. Ovvio non sto parlando di domani, sto parlando delle prossime decenni, dieci, vent'anni, però le auto per essere efficienti, per poter entrare nei centri storici, abbassare il livello di emissioni e poi andiamo invece sulla normativa, per aderire, o meglio essere in linea col protocollo di Kyoto, non prendere multe dalla comunità europea, hanno bisogno di abbassare le emissioni. Le case automobilistiche investono tanto anche nella vettura elettrica, non ce lo nascondiamo sicuramente per abbassare il loro livello di emissioni, ma questo vuol dire che arriveranno sempre più modelli di vettura che hanno o l'endotermico e l'elettrico o solo l'elettrico, quindi bisogna incominciare subito ad entrare nell'ottica del veicolo elettrico per poter poi dare una professionalità già avanzata nel momento in cui effettivamente i veicoli arriveranno. La demolizione vorrebbe dire portare il veicolo all'estero, invece in questo caso in Italia non si può fare, in Germania neanche più, da settimana scorsa, basta, finito. Capote, zero. Qui, italiano? No, non l'ha immatricolata, ancora targa prova, che si potrebbe, però deve trasportare l'auto e tutto quanto, è un'operazione che costa intorno ai 5.000 euro, non si fa, più trasporto dell'auto. Andiamo allo stato dell'arte. Oggi il ministero ci ha detto, l'11 di novembre, ci ha detto, bene, noi facciamo, quindi andiamo proprio sul pratico, facciamo in modo che il kit elettrico, correttamente ingegnerizzato, sia omologabile come viene omologato il cambiamento di alimentazione della vettura, quindi GPL e metano. Quindi tu mi omologhi il kit, rispetti tutte le normative che servono e i pesi della vettura, tutti gli stati cinetici della vettura, tutto quello che è la vettura originaria, io ti do il benestare ad andare al CPA o a reomologare come si fa con il, o addirittura l'autocertificazione che fa l'officio. Perfetto. Questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, che stiamo scrivendo noi col ministero, perché il ministero ci ha detto, noi non possiamo impegnare capitali e intenzioni nel fare questo, perché normalmente le case automobilistiche o l'andirenzo, quando vuole farlo, se lo fa con i soldi suoi. Molto praticamente è stato quello. Noi i soldi li prendiamo da Confartigianato, che ha tutto l'interesse di introdurre la trasformazione di un determinato settore di veicoli in questo senso. Quindi Confartigianato sta portando avanti dei progetti di omologazione di questi kit tramite la nostra struttura, quindi tramite i nostri ingegneri e i tecnici che si avvalgono poi delle officine di Confartigianato, un giro per l'Italia, e con l'audo proporremo tutta la normativa, e quella è la parte più complicata, al ministero, la normativa andrà a Bruxelles per il tacito assenso di tre mesi, arriverà alla Corte dei Conti e verrà approvata. Questo è un progetto 2014 che contiamo di portare a casa. Quindi è l'omologazione del kit retrofit per trasformare i veicoli. Cosa significa questo? Che si possono trasformare dei veicoli, quanto conviene? Conviene su scala nazionale. Conviene su migliaia di veicoli, migliaia di acquisto motori, migliaia di pacchi batteria acquistati, non magari sulle due o tre macchine fatte. È ovvio. Cioè se viene l'amatore e mi dice trasformiamo un'altra DeLorean, certo se hai il capitale per poterlo fare si può fare, ma economicamente non rende. Ti compri una Tesla è sicuramente una vettura elettrica. Più che altro perché tutta l'operazione è un'ingegnerizzazione, quindi vuol dire che io devo mettere un ingegnere a fare la scansione 3D del veicolo, fare un modello del veicolo, dove vanno posati i cavi, non è una passeggiata per un modello e quindi i costi salgono. È ovvio che se io ingegnerizzo una volta quel modello e poi ne faccio 10.000, faccio l'esempio la Panda. Non è l'auto più venduta d'Italia, è quella su cui il confartigianato sta lavorando. Quindi l'elettrificazione della Panda. Ha pezzi di ricambio, si trova sul mercato dell'usato, è un'auto robusta, un'auto leggera da città, non è una Zoe, non è una Tesla, quindi avrà una sua categoria di buyers, che sono quelli a cui non arrivano ancora questi veicoli. Magari la famiglia che dice ok, investo i miei 10-15.000 euro e prendo anche la seconda macchinina elettrica. Quindi quello è il macro obiettivo nazionale. Sarà bancabile, nel senso che se uno va a concessionario, fa un finanziamento. È un oggetto con un valore, quindi sì, ci sarà una rete nostra di finanziari che ovviamente aiuteranno all'acquisto del veicolo. Un prodotto che ha uno storico, ha un track record o quant'altro, ti viene finanziato, se no inizi a trovare pure... Non stiamo parlando di un'officina che fa la trasformazione, stiamo parlando di confartigianato che coordina la trasformazione a livello nazionale. Quindi ha già le proprie banche, piuttosto che le finanziarie, che riconosceranno nel veicolo, un veicolo fatto e finito, anche perché se il libretto canta, il libretto dice è una vettura trasformata in elettrica, che può andare in strada, è una vettura che ha un valore economico, un valore dell'usato, un valore dei pezzi di ricambio, è ovviamente bancabilizzabile tranquillamente, quindi quello non sarà un problema. Ci saranno delle formule specifiche, formule per i comuni, formule per i privati, il più possibile vantaggiose, come ci saranno delle formule anche sul fronte delle assicurazioni, che noi abbiamo già, noi abbiamo una convenzione nazionale, faccio io da apriporto, sento che bussa. Abbiamo una convenzione nazionale che già propone l'assicurazione solo per i veicoli elettrici. La cosa interessante è che c'è già un'assicurazione a livello nazionale che segue solo il veicolo elettrico, che sta facendo i costi migliori in assoluto, li fa per chi vuole acquistare il veicolo elettrico da 20.000 euro, la Zoe, piuttosto che chi vuole acquistare anche la Tesla Motors, fa delle convenzioni specifiche per il veicolo elettrico, riconoscendolo come un veicolo, o meglio, prima di tutto, come un autista completamente diverso. Quindi voi sapete che ci sono tantissimi parametri nel ramo assicurativo. Per questa assicurazione l'autista di veicolo elettrico è più accorto, quindi ha dei tassi più bassi di incidenti, ha un livello anche medio di potere d'acquisto diverso, quindi sembra strano, l'auto costa di più ma l'assicurazione costa di meno. Settimana scorsa due dei nostri soci hanno acquistato delle panda elettriche, trasformate in elettriche, e l'assicurazione comprensiva di assistenza stradale e tutto quanto, con una quarta categoria, costa 120 euro. Milano. Ipotizziamo che possa costare 300 euro sotto Roma eventualmente, ma non di più, comunque si parla proprio di prezzi più che confidenziali. Perché? Perché si sta creando un fermento di interesse intorno al veicolo elettrico in generale. Quindi ritorniamo dopo, se no vi vengono 20.000 domande, sul fronte tecnico del retrofit, vado avanti su quella che è fondazione, che cosa sta facendo. Noi facciamo promozione, perché prima di tutto per far arrivare il veicolo elettrico bisogna farlo conoscere, bisogna farlo provare, bisogna arrivare al target specifico, che probabilmente non è la signora, la famiglia, perché ancora il veicolo elettrico ha un prezzo un tantino più elevato. Però si parte, ad esempio, sulla promozione cosa sono? Le flotte. Le flotte dei comuni, le flotte dei privati, le flotte delle aziende di un certo tipo. Quindi, cosa stiamo facendo sulla promozione? Siamo sul fronte delle flotte, stiamo lavorando con l'Alphabet. Non so se ce l'avete presente. È il quinto gruppo a livello mondiale per il noleggio a lungo termine, quindi sta all'interno della grande famiglia dei noleggiatori a lungo termine, ma soprattutto è una società del gruppo BMW, che lavora quindi con tutto il veicolo elettrico, riesce a rappresentare tutti i veicoli elettrici, e non solo l'Ai3, perché attualmente il veicolo elettrico di BMW è l'Ai3, ha preso tra l'altro 4 stelle Euron Cup, e invece la Tesla è 5, piccola notizia. Ma per quanto riguarda appunto la promozione, è quella di arrivare prima di tutto alla piramide più alta, al punto più alto della piramide, che è quello che poi, come tutte le cose, come sono state le Prius per i tassisti, come sono state le auto di rappresentanza per poi venderle anche ai privati, sono quelli che accendono il mercato. Quindi la flotta che sceglie 3, 5, 10 veicoli elettrici, incomincia ad accendere il mercato. Prima di tutto perché è un banco di prova, importantissimo. Secondo perché è organizzabile. Cioè io so in una flotta quanti chilometri fa quel veicolo, come guida quell'autista, dove va, dove può ricaricare, quindi io già posso pianificare. Nel frattempo dietro si sta costruendo la rete a livello nazionale, poi lo vedremo. Posso pianificare lo stile di guida, posso sapere quale veicolo prendere, quando e a che ora. Posso pianificare di ricaricarlo di giorno per ogni impianto fotovoltaico in azienda e quindi ottimizzare i miei consumi. Quindi la promozione parte principalmente proprio dalla... Buongiorno. Da un discorso appunto di flotte, flotte dei veicoli. Poi abbiamo la ricerca. La ricerca è importantissima perché la ricerca in questo settore abbraccia sia l'infrastruttura di ricarica sia il veicolo elettrico in sé. Quindi la ricerca poi funziona anche quando noi andiamo con un partner a fare del retrofit, perché in quel momento si può andare a vedere che cosa sta succedendo sul veicolo, quali motori, testiamo motori di Magneti Marelli, testiamo motori di qualsiasi casa, piuttosto che vediamo, non so, un tipo di motore può funzionare meglio. Questa è tutta ricerca. Ricerca e sviluppo poi per noi, che sono due stesse voci, significa anche prima di tutto guardare cosa stanno facendo all'estero. Quindi significa spesso partecipare alle fiere per vedere come si sta muovendo il settore all'estero per poi riportarlo in Italia. Perché noi siamo basati in Italia e noi crediamo nel territorio italiano. Sempre per tornare sul discorso di chi siamo, gli italiani, quando è stato introdotto il telefono cellulare, erano gli ultimi. Oggi siamo i primi in Europa per il numero di telefoni e per il livello di tecnologia dei telefoni che abbiamo ciascuno. Quindi vuol dire che la tecnologia ci piace. Allo stesso modo siamo sempre il paese dell'auto, in realtà. Le auto migliori le facciamo qui, know-how, piuttosto che parti tecniche e preparazione sul veicolo e sul veicolo in generale ce le abbiamo. Quindi sicuramente Fondazione spinge molto nel nostro paese. Quindi noi guardiamo all'estero senza applicare per forza modelli che funzionano in nord Europa perché un danese andrebbe anche in una vasca da bagno elettrica perché non gli interessa come è fatta la macchina. L'italiano invece vuole uno stile, vuole una macchina di un certo tipo se deve scegliere un veicolo da acquistare. Poi creiamo un cortocircuito tra le imprese che nel settore elettrico è anche interessante da dire. Facciamo in modo che ci sia del B2B che possano lavorare le imprese gli italiani non lavorano insieme non fanno rete me lo diceva Camera di Commercio ma noi abbiamo fondi fermi perché le aziende italiane magari lavorano a uno stesso progetto con tempi diversi magari non arrivandoci alla fine perché finiscono i fondi piuttosto che il know-how interno e non richiedono i fondi di rete d'impresa perché non fanno impresa non si riesce a fare impresa insieme noi nel nostro piccolo cerchiamo di mettere insieme tante aziende che magari stanno facendo la stessa cosa che hanno intenzione di fare il veicolo elettrico o hanno intenzione di entrare nella mobilità elettrica che è anche colonnina e poi lo vedremo facciamo in modo che lavorino insieme quindi l'attività di fondazione è anche quella di creare un cortocircuito tra le imprese noi all'interno di questa attività di tre anni attualmente abbiamo come uno dei primi partners a livello nazionale abbiamo Autogrill perché prima parlavamo di rete noi abbiamo proposto Autogrill ma perché non sei il primo a mettere una colonna ultra rapida nell'autostrada ma ci piace non ci piace sei mesi abbiamo installato installato vuol dire che noi abbiamo preso le aziende abbiamo scelto selezionato diverse imprese diverse tecnologie le abbiamo messe insieme le abbiamo fatte lavorare non le installiamo noi perché non abbiamo scopo di lucro il nostro è un'aggregazione quindi abbiamo creato il team abbiamo fatto in modo che Autogrill ci scegliesse per cinque anni quindi sulla rete autostradale di Autogrill c'è sull'autostrada uno dei nodi più importanti la 8A9 la prima stazione di ricarica ultra rapida di rete autostradale italiana installata a febbraio 50 kilowatt di potenza ricarica veicoli che hanno il protocollo CiaDemo per intenderci la LIF in 30 minuti circa quindi comunque il tempo di una sosta di un panino e via dicendo è alimentata a energia rinnovabile ed è uno dei primi passi che ha fatto fondazione anche sulla rete elettrica poi abbiamo tutto quello che è un discorso di ricerca e sviluppo con la RSE di comunicazione con Yacht Online e Gente Motori perché poi vedremo che ci occupiamo anche dei veicoli del motore elettrico in ambito nautico Gente Motori che ci segue da sempre sul fronte appunto di comunicazione poi abbiamo altri partner anche di moto elettriche piuttosto che di istituzionali o sull'ambito elettrico che ci hanno seguito in questi anni poi adesso ancora non è aggiornatissimo però diciamo che sono cresciuti parecchio facciamo comunicazione finendo su strisciata notizia piuttosto che su altre trasmissioni per andare a comunicare che effettivamente il veicolo elettrico c'è quindi cerchiamo anche di spingere sotto il punto di vista comunicativo poi la DeLorean di Ritorno a Futuro ha fatto Milano-Roma andata e ritorno con Wired quindi una rivista che si occupa di tecnologia quindi esiste un enorme parco auto di vetture che vengono rottamate ogni anno inutilmente perché la struttura del mezzo è buona però il motore è andato sinceramente le panda sono queste io ho visto flotte di panda nelle amministrazioni pubbliche ferme ferme perché il motore era andato però la macchina è robusta quindi la possibilità quella di lavorare su dei veicoli così diffusi è effettivamente un qualcosa di valido ha bisogno della normativa sulla quale stiamo lavorando noi la parte tecnica poi la vedremo con Francesco invece è un'altra sfida che però è una parte molto più pratica trasformazione di un veicolo elettrico è un'operazione semplice perché lo stesso motore elettrico è una macchina semplice efficiente robusta capace di percorrere con una manutenzione minima si parlava circa 2 milioni di chilometri per i cuscinetti più o meno ecco i cuscinetti di buona qualità hanno una manutenzione seria quindi una sostituzione centinaio di euro dopo un paio di milioni di chilometri e lo stesso motore elettrico ha durate di milioni di chilometri perché? perché ovviamente il veicolo elettrico ha un'alta efficienza energetica quindi l'ingegnerizzazione è una parte complessa ma è una parte di cui ci occupiamo noi sul determinato veicolo viene costruito un book che è quello poi di come smontare di come elettrificare quali norme seguire dopodiché il meccanico fa l'installazione del kit elettrico e va in omologazione le aziende nostre partner oggi hanno realizzato e venduto in nord Europa oltre 200 kit di elettrificazione per vettura scoppio quindi tante delle aziende che collaborano con noi alcune sicuramente le conoscete alcune non ce l'hanno fatta perché il periodo tecnico e il periodo economico era quello che è investire nell'auto elettrica oggi costava molto magari non sono arrivate al 2013 e al 2014 come la micro metà ad esempio però hanno fatto qualcosa sul fronte delle flotte quindi sono riuscite a mettere sul mercato un po' hanno aperto la strada ora con il senno di poi ovviamente si può lavorare in una maniera più strutturata che è quella che stiamo cercando di fare a livello nazionale questo poi era l'evento e non mi ci soffermo i vantaggi del retrofit risparmio energetico allora se non è un vantaggio completamente economico io lo ricordavo prima dobbiamo rispettare i parametri europei ci saranno nei prossimi anni verranno a parte che le stiamo già pagando parecchie multe sul livello di emissioni di polveri sottili in particolare nelle grandi città Milano è la prima tra purtroppo su emissioni di polveri sottili questo è un dato economico noi guardiamo il retrofit in ambito macroeconomico quindi nel momento in cui il retrofit le vetture elettriche in generale si sviluppano e riescono ad arrivare all'interno delle nostre città non è solo un risparmio economico per chi le acquista è un risparmio economico per la collettività perché abbassano comunque il livello di emissioni locale il livello di emissioni locale non è il PM10 che ci vendono tanto in televisione ma è il PM2.5 che è quello che effettivamente riesce a superare la barriera polmonare e va in circolo immediatamente quindi importante è anche quello dell'introduzione del veicolo elettrico è importante anche sotto questo punto di vista e quindi aumenterà la domanda anche perché aumenteranno le sanzioni quindi non c'è nulla da fare la strada è comunque segnata sul veicolo elettrico nelle sue varie forme il retrofit ha anche il vantaggio di non produrre nuove vetture di piccola cilindrata ma utilizzare quelle che esistono per trasformarle farle diventare la vettura da città della famiglia per dire e poi ovviamente c'è il risparmio economico per il cittadino e le pubbliche amministrazioni pubbliche amministrazioni e includiamo anche le flotte quindi piccole flotte che possono avere su quel target di veicolo un'elettrificazione poi c'è l'introduzione vera dell'auto elettrica a ragione di nuove vetture a scoppio l'utilizzatore può prendere realmente di mistichezza un nuovo tipo di veicolo il retrofit introduce un po' il veicolo elettrico chi ha provato di voi il veicolo elettrico si è accorto che si guida diversamente completamente con la testa e con i piedi si guida completamente in maniera diversa quindi anche il veicolo elettrico retrofit serve anche a creare questa base questa è la parte che dicevo prima il retrofit viaggia parallelamente ai veicoli elettrici nuovi di fabbrica altrimenti BMW settimana scorsa non ci avrebbe firmato una partnership sul fronte alfabet quindi sulle flotte se noi spingessimo il retrofit e questo fosse un avversario del veicolo elettrico nuovo ovviamente le case come la General Motors con la quale collaboriamo da due anni su progetto Ampera non sarebbero dalla nostra parte invece lo sono perché comunque il veicolo è veicolo elettrico e in questo periodo e nei prossimi anni è un traino per tutto il settore progetto Icone prima vi parlavo delle vetture storiche le vetture storiche non gireranno nei centri per i vari raduni quando ci saranno i blocchi i blocchi saranno sempre di più nei prossimi anni le aree ZTL si ampieranno diventeranno sempre più limitative qui c'è un altro esempio di una Renault R4 trasformata in elettrica che è andata fino a Dakar per intenderci quindi c'è anche la possibilità e capita a tante officine che ci scrivono che c'è il cliente che arriva con il duetto piuttosto che la macchina particolare e magari ha una disponibilità economica e dice la voglio trasformare la possibilità di trasformarla ci potrebbe essere una volta omologato il kit ci può essere anche il progetto Icone quindi trasformare piccole macchine qualcuno prima faceva l'esempio della Fiat 500 c'è stata chi l'ha fatta c'è il club mini italiano che è interessato a fare una mini elettrica il Maggiolone la R4 invece era un'auto un po' più dimostrativa quindi c'è anche un settore che è quello delle auto storiche che non potranno più circolare o che comunque piano piano avranno un motore endotermico che andrà a costare sempre di più in manutenzione piuttosto che in pezzi di ricambio che non ci sono quindi anche quella è una parte importantissima e fa tantissima comunicazione perché il veicolo elettrico storico effettivamente fa tanta comunicazione che noi ovviamente cerchiamo di utilizzare il più possibile ma prima dicevo che effettivamente introdurre il retrofit aiuta a introdurre anche un altro settore del veicolo che è quello del veicolo da lavoro Francesco poi ci porta la sua la sua personale esperienza sotto questo punto di vista ha realizzato questo quindi ha realizzato l'elettrificazione di un veicolo da lavoro quindi sono dei veicoli particolari che magari la casa non prevede a listino come veicoli elettrici il retrofit è la soluzione a questo tipo di applicazione anche poi dal punto di vista normativo magari di omologazione hanno dei parametri diversi potrebbe essere anche che sia anche più semplice ma sono comunque dei mezzi importanti perché vengono richiesti come vengono richiesti questo è un Vito quindi Mercedes Vito che nasce il retrofit già dalla casa però per dire ci può una volta passata l'omologazione è passato il discorso appunto di produzione in piccola serie anche il veicolo elettrico commerciale ha una richiesta enorme c'è un'azienda leader a livello mondiale attualmente si chiama la Smith e produce dei veicoli elettrici sopra le 3 tonnellate e mezzo che stanno facendo tra l'altro è un'azienda che sta avendo dei profitti molto buoni perché perché nelle dicevamo prima le limitazioni 2020 2030 l'ultimo miglio quindi il trasporto locale di merci dovrà essere fatto a zero emissioni non a gas GPL a zero emissioni quindi anche lì c'è un settore interessante lo stesso ministero dei trasporti ce l'ha detto qui c'è un settore interessante perché ci arriveranno sicuramente le case a fare dei modelli adesso la Nissan arriva con l'NV200 l'anno prossimo però ci sarà una richiesta enorme di elettrificazione magari di veicoli invece che devono lavorare in città e che magari sono semi nuovi un euro 4 oggi è già vecchio quindi un euro 3 non lavora più il corriere stesso che vediamo noi spesso mi dice io ho già dovuto cambiarlo 4 anni di furgone sapete che è difficile poi da ammortizzare certo saranno sempre più restrittive queste limitazioni e l'interno appunto dei centri diventerà sempre più precluso al trasporto e in particolare questa normativa europea il trasporto ultimo miglio dovrà essere effettuato a zero emissioni quindi bisognerà sicuramente avrà una fetta di mercato anche in quello il retrofit in strada adesso dentro al cofano della Ford Focus vedete uno dei nostri tecnici che è Cristiano la conversione dei veicoli a scoppio in elettrico dicevamo prima che è la trasformazione del veicolo elettrico in operazione semplice parte da un'ingegnerizzazione importante che è quella ovviamente di cercare di riprodurre un veicolo e anzi deve essere riprodotto un veicolo per come era originariamente distribuzione dei pesi massa totale deve essere deve rispettare parecchi parametri importanti per arrivare all'omologazione velocemente il discorso anche del mare chi sa convertire un veicolo poi alla fine ha preso dimestichezza col fronte motore elettrico azionamenti batterie in mare si sta incominciando a ibridizzare quindi si sta incominciando a introdurre anche il motore elettrico in serie alla trazione endotermica una barca a vela carica a bordo circa 1000 1500 litri di gasolio che per una traversata Genova Sardegna vengono consumati tranquillamente perché il vento c'è è vero io sono andato spesso in barca a vela con un mio socio è vero che c'è il vento che stai attento a tutto quanto ma tutti i velisti accendono il motore e ovviamente 1500 litri di gasolio sapete benissimo quanto possono costare anche che si può permettere una barca a vela incominciare ad essere attento a quello e poi c'è un'altra questione non si può entrare in tantissimi porti a motore acceso quindi incominciano ad avere dei piccoli motori fuori bordo elettrici per fare le manovre la realtà è quella che si può elettrificare il motore tipo uno Yammer che è il motore più diffuso sulle imbarcazioni si può farlo diventare seriale senza ne meno dover fare l'omologazione perché in questo caso è molto più semplice io ho aumentato la porta i sommergibili funzionano così da anni la costa crociere tutta la flotta della costa crociere è ibrido seriale il motore che fa il lavoro duro è solo il motore elettrico gli altri motori endotermici a gasolio sono solo centrali elettriche installate a bordo perché? perché il più affidabile è il motore elettrico e la parte endotermica anche di riscaldamento acqua e tutto quanto è affidata ai generatori certo se la tecnologia delle batterie fosse più arrivabile probabilmente avremmo anche grandi navi da crociera batterie direttamente perché comunque sarebbe più conveniente sapete che comunque il rendimento di un generatore è lo stesso di un motore endotermico normale quindi molto basso vuol dire che la maggior parte del gasolio lo butto via quindi anche sul fronte marino grazie al fatto che non c'è l'omologazione ma c'è solo rina comunque una specie di certificazione del tecnico che fa l'installazione è più semplice anche questo è un settore che il retrofit che il retrofit smalizia il retrofit aiuta a smaliziarsi anche sulla progettazione ad esempio di un seriale piuttosto che la sostituzione totale di un endotermico su piccoli daily cruiser piuttosto che su barche dei pescatori con un sistema elettrico piccola parentesi che sicuramente qualcuno poi vorrà chiedere sul fronte batterie le batterie leggerete sicuramente un po' ovunque hanno dei costi e è il costo più alto della vettura elettrica attualmente la tecnologia è abbastanza matura sul litio ma la tecnologia di riferimento è il litio quindi batterie al grafene piuttosto che batterie zinco aria tutte le batterie di cui spesso si legge è arrivata l'auto che farà 2000 km con una ricarica è una tecnologia o sono a volte sono degli scoop che non stanno nel cielo di terra ma comunque la tecnologia delle batterie per molti anni non cambierà sarà litio non si può fare nulla è industrializzato quindi vuol dire che le aziende stanno cosomettendo su quello se anche ci fosse una tecnologia valida Basf ne annunciò una 4 anni fa non è mai stata implementata se non è industrializzabile non viene adottata quindi farsi l'idea di utilizzare batterie diverse utilizzare batterie a sale queste sono tecnologie il grafene il CNR nano che è il nostro istituto di ricerca italiano è uno dei più avanzati però il grafene richiederà 10 anni come minimo per avere per incominciare si stanno registrando tanti brevetti quello vuol dire che sicuramente sarà un materiale del futuro è la plastica del futuro il grafene tra l'altro ha tantissime meno costi si produce con poco però non oggi il vero trend della batteria in prossimi 10 anni è quello della discesa dei prezzi rispetto al potenziale energetico della batteria rimarrà uguale per parecchi anni scenderanno i costi e sicuramente Tesla ha influito tantissimo in questo a livello mondiale sul quantitativo se c'è una casa automobilistica che utilizza così tante celle le 18650 come la Tesla Motors le acquista da Panasonic già era una tecnologia a livello economico già più arrivabile perché sono le batterie inserite nei nostri portatili sono le celle che sono inserite nei nostri portatili una casa automobilistica che ne acquista così tante e ne acquisterà perché il successo di Tesla è solo all'inizio ne acquisterà milioni farà scendere il prezzo anche questo contribuirà a far scendere il prezzo quindi scenderà il prezzo delle batterie non cambieranno non saranno delle batterie straordinarie con 85 kWh come la Tesla si fanno già 500 km teorici è vero può essere in realtà più di una persona ha dimostrato che si possono fare 500 km ma anche 400 in una tratta qui italiana quindi in realtà sono delle tra l'altro con la rete supercharger sarà l'ideale quindi sì una cosa importante è lo scherzo una cosa importante è che guidando in maniera costante in autostrada attorno ai 130 140 all'ora si fanno senza problemi e ve lo dico perché l'ho fatto altrimenti non ve lo direi tra i 350 e i 370 km è vero che può capitare di voler fare un viaggio lungo perché può capitare quindi in quel caso bisogna organizzarsi è anche però vero è importante sottolineare che il 90% della gente in Italia quotidianamente non fa più di 60 70 km quindi spesso e volentieri più limite mentale è un'ansia che può sporadicamente avere anche delle ragioni pratiche ma in linea di massima è una paura che noi spesso abbiamo ma sono sicuro che tra 4-5 anni saremo qui a parlarne come una cosa del tipo ma in realtà non ci serviva giusto per è vero infatti l'ansia d'autonomia si chiama ci sono già psicologi che stanno cercando di trattarla l'ansia d'autonomia è quella di dire beh ma io parto e poi dove arrivo beh ma il tuo viaggio è pianificato la maggior parte delle volte è vero che la rete si sta sviluppando io in elettrico ho già fatto quasi 80.000 km si fanno e muovendomi tanto sulle città ma anche facendo ovviamente in ibrido degli spazi più lunghi ma per la città per la città e l'extraurbano con la rete che si sta sviluppando basta e avanza la ricarica di un veicolo normale di una Tesla ancora di più ma sicuramente il limite è quello mentale su quello bisogna lavorare sulla cultura perché non lo può immaginare una persona ovviamente l'ansia ed autonomia è una cosa normalissima ci mancherebbe noi per lavorare sulla cultura tra le varie attività che vi ho elencato prima lavoreremo anche nelle autoscuole con la confarca nazionale cercheremo rispondo anche a città le scuole guida il concetto di veicolo elettrico tutte le scuole guida hanno il solito motore endotermico impolverato ecco adesso porteremo dei motori elettrici porteremo della cartellonistica che parla di veicoli elettrici e faremo in modo con il ministero che ci sia anche un veicolo elettrico da provare ma faccio io scusa buongiorno quindi faremo in modo anche di poter arrivare al veicolo elettrico all'interno delle autoscuole perché lì abbiamo i sedicenni i diciottenni che poi vanno in famiglia e dicono l'elettrico è più bello del tuo mega SUV caro papà e mi piace di più l'elettrico perché comunque il giovane poi è quello che fa che crea anche il trend setting quindi è importante arrivare alle autoscuole quindi è tutta cultura l'ansia di autonomia la si leva partendo dalle scuole cioè si educa si deve educare al veicolo elettrico perché è giusto avere delle paure quando non si conosce quindi sicuramente è una delle attività ritornando al discorso appunto ibride plug-in piuttosto che l'ibrido seriale quindi vuol dire un motore elettrico protagonista della trazione e il motore endotermico invece a servizio del motore elettrico sicuramente in mare c'è una potenzialità enorme noi siamo stati copromotori del disegno di legge pro retrofit quindi questa apertura da parte del ministero a omologare il veicolo trasformato in elettrico e appunto con l'11 di questo mese grazie al direttore Vitielli e all'apertura mentale della motorizzazione sotto questo punto di vista abbiamo trovato dei tecnici non dei politici quindi parlando in tecnicese e dicendoci che cosa si poteva fare ci si è intesi si è detto bene poi loro hanno detto scrivetela voi fate tutto voi e poi ce lo portate ovviamente se ne prenderanno i vanti di tante cose ma va bene quello va bene comunque la batteria chi ne risponde? il produttore della batteria poi lo vedremo lo affronto in che senso? chi produce e assembla batterie è obbligato poi a farne il ritiro la manutenzione l'assicurazione quindi c'è già tutta la filiera sulla batteria non è abbandonata a se stessa la batteria non la fa il meccanico arriva già fatta perché è un'ingenializzazione che non può essere seguita da un meccanico direttamente qui introduciamo e poi arriviamo nel tecnico e mi fate tutte c'è un po' di tecnico e le fate le domande a me invece aggredirete lui per tutti gli aspetti più tecnici spicci abbiamo creato anche i vtrotter che è una rete di ricarica privata pay per use oggi come si fa ad andare sulle colonnine oggi vado sulla colonnina io ho diverse schede hai quella di Enel hai quella di A2A su Milano e su Brescia ti autentichi hai l'abbonamento alle spalle che paghi ogni mese e questo ti permette di farla la ricarica noi abbiamo pensato per la nostra stazione di ricarica in Autogrill di mettere un sistema che permetta adesso è libera quindi è regalata da Autogrill la ricarica però c'è già un sistema che volendo ti permette autenticandoti di pagare con la carta di credito Paypal il credito telefonico quello che è la tua ricarica perché in futuro bisogna pagare la ricarica adesso è molto interessante su Milano 5 euro al mese carichi quanto vuoi ma non dura per tanto ovviamente quindi c'è una sicuramente c'è un discorso di ricarica Pay Per Use perché? perché noi siamo in una tratta dove c'è dove ci sono tanti clienti che magari viaggiano dalla Svizzera dalla Germania quindi c'è bisogno che loro non facciano un abbonamento ma paghino quando la utilizzano quindi si è pensata per quella però in futuro sarà sempre più di così cioè deve essere la rete di ricarica deve essere accessibile a chiunque abbia un veicolo elettrico perché le autonomie aumentano c'è l'ibrido seriale l'ibrido seriale ovviamente con molta batteria a bordo che richiede magari delle ricariche anche rapide quindi è importante che chi riesce a raggiungere una determinata stazione di ricarica possa autenticarsi in una maniera molto flessibile noi pensiamo che siccome il telefono l'abbiamo sempre in mano le tessere un po' di meno l'autenticazione tramite lo smartphone sia una delle variabili importanti questo è un po' il claim della svolta elettrica che è il progetto nazionale che portiamo avanti con l'obiettivo di diffondere la mobilità elettrica intervenendo a livello normativo culturale sociale economico e ambientale con azioni concrete quindi noi cerchiamo di realizzare sempre anche negli eventi delle azioni concrete quindi qualcosa che sia tangibile l'installazione della stazione di ricarica di autogrill non è un progetto pilota è una stazione che funziona tu la vai e ti ricarichi la voluta fondazione l'ha fatta le aziende è stato un esempio che adesso adesso ancora non ne posso parlare stanno incominciando a seguire in molti mezzi da lavoro ne parlavamo prima il parco dello Stelvio che dice beh ma anche noi abbiamo delle restrizioni sulle emissioni non sembra hanno questo tipo di mezzi ecco queste sono delle piccole opportunità che sono sparse sicuramente in Italia sicuramente per un discorso di patrimonio architettonico e patrimonio boschivo quello di progettare eventualmente dei mezzi invece da lavoro che possono essere anche ibridi seriali quindi avere la parte elettrica con una batteria come in questo caso questo è un mezzo che è già stato realizzato un Land Rover elettrificato l'Electric Defender e elettrificare dei mezzi un po' particolari arriviamo sempre al discorso di elettrificazione dei mezzi particolari pesante ma ci sono delle autonomie che possono essere nel parco dello Stelvio di 20 km dove non può accedere un mezzo a combustione 20 km per un mezzo del genere con un po' di batteria non sono problema mantiene il cambio originale quella poi è tutta parte tecnica però nel retrofit sempre per non sprecare niente avere il massimo del rendimento il cambio è sempre quello originale qui vediamo appunto che nella trasformazione tutta la parte anteriore dove si è liberato lo spazio motore è stato utilizzato per installare le batterie andando in omologazione i pesi devono essere uguali ci sono diversi parametri interessanti ma questo è stato elettrificato in maniera professionale in maniera molto semplice rimane un mezzo con la stessa potenza anzi con più potenza di prima e una coppia sicuramente migliore arriviamo poi al visto che ne abbiamo parlato ne ho parlato tanto cosa abbiamo fatto in autogrill quello è l'autogrill di Villoresi Est è l'autogrill più innovativo a livello europeo ad oggi è certificato lì da 520 sonde per la geotermia consuma un quarto rispetto a quello che dovrebbe consumare non ha gas recupera l'acqua piovana una superficie captante per il calore ovviamente quando abbiamo visto tutto questo progetto abbiamo detto beh la colonna di ricarica per i veicoli non c'è e lì noi ci siamo inseriti con dei partner che sono noi siamo i Vinao di fondazione l'Oginet è il nostro braccio destro dal punto di vista ingegneristico e poi vedremo posso parlare di alcune cose che si stanno portando avanti insieme in questo caso c'è stata la Nissan che è attiva e partecipativa questa è una cosa bella nel senso che non lavora da sola e non lavora solo per Nissan lavora in tutto il comparto delle vetture elettriche ha partecipato all'installazione della colonna sovvenzionandone una parte quindi è stato importante anche quello però proprio per essere molto trasparenti una colonna di ricarica 50 kilowatt installata in un'installazione così particolare 50.000 euro un impianto di GPL dello stesso tipo ovviamente lavorerebbe di più perché ci sono più auto oggi ne costa 560.000 Autogrill siccome è il più grande rivenditore di benzina d'Italia perché tutte le stazioni all'interno di Autogrill sono partecipate da Autogrill da punto di vista quindi non vede solo panini vede anche benzina ha fatto il paragone ha detto beh effettivamente forse mi conviene anche studiare quello che si sta facendo adesso è raccolta dati studiare un futuro di impianti di ricarica perché cosa gli è costato? La posa dei cavi 120 metri di posa di cavi da 100 kilowatt perché si sta sempre su un margine più alto sicuramente avete più o meno un ordine di costi quindi in realtà il costo è molto basso Landi Renzo deve iniziare ad avere paura di uno No Landi Renzo ha una sua idea dell'elettrico ma è quello che dico sempre se domani si introducesse domani ci fossero solo elettriche o una legge molto restrittiva che impedisse a tutte le altre auto di esserci saremmo tutti disoccupati perché l'auto a benzina sono valvole viti un'industria una filiera enorme dietro il passaggio è obbligato nei prossimi anni ma è graduale quindi Landi Renzo non ha paura oggi dell'elettrico ha preso anche lui dei brevetti quindi anche lui sta seguendo il fronte dell'elettrico potrebbe essere Landi Renzo un ottimo alleato Landi Renzo potrebbe essere interessato all'elettrico nel futuro sicuramente per ora no perché non è un mercato che un'azienda come Landi Renzo che comunque è una grossa azienda ma non è un colosso che può permettersi di dire investo in iron di 10 miliardi di euro solo per l'elettrico ci vaga gradualmente come fanno i petrolieri come faranno le case automobilistiche questa è sull'A8 Milano Laghi all'altezza di Lainate è visitabile ovviamente la struttura è eccezionale dico che è l'unico è il primo a livello europeo perché anche internamente è una stazione spettacolare ma soprattutto quella è l'A8 e l'A9 e la Milano Laghi in Lombardia è l'autostrada del business infatti la maggior parte se voi vi fermate 20 minuti in Autogrill vedrete solo professionisti passare da quell'autostrada per noi è importante perché il nostro progetto che è quello delle flotte è stato sposato insieme a diversi partner e anche quello di Autogrill è quello che noi saremo presenti in questo Autogrill due volte al mese per introdurre il veicolo elettrico proprio su quel target di personaggi è un target strategico assolutamente ecco qui ci sono stati lavori di installazione è semplicissimo installare una stazione di ricarica elettrica rispetto a una GPL benzina è semplice poca manutenzione anche se c'è c'è sicuramente un po' di manutenzione all'anno sistemi di raffreddamento della colonna piuttosto che controlli però è stato fatto in tempi abbastanza brevi ho detto in quattro mesi tra la progettazione e l'installazione partendo da un zero nessuno aveva esperienza di questo tipo è stato fatto tutto il progetto è poi installata una colonna che è quella che vediamo qui in piccolo non ce l'ho più grande forse dopo ve la posso far vedere che attualmente incorpora tre tecnologie di ricarica la ricarica lenta con un connettore a pannello che va bene per le Prius plug-in le Ampera tutte le auto che hanno una ricarica possibilmente lenta una ricarica rapida in corrente alternata fino a 44 kilowatt significa che una Renault Zoe viene ricaricata in circa 30 minuti anche lei più o meno una Tesla volendo da 44 kilowatt si può ricaricare in un paio d'ore e poi il CiaDemo che è il protocollo invece in corrente continua non voglio scendere nei tecnicismi comunque diciamo che attualmente sono questi tre gli standard il CiaDemo che sarà integrato nel Combo che invece è un connettore che ha sia l'alternata che la continua e quindi anche questa colonnina è sempre in divenire è già appena stata aggiornata sicuramente fra qualche mese inmonterà dei connettori nuovi anche per sopperire a quello che è il parco circolante qui abbiamo un dettaglio poi effettivamente l'autogrill è eccezionale anche dal punto di vista architettonico perché ha un fungo questo fungo serve per l'estrazione ovviamente dell'aria calda d'estate e viene chiuso utilizzato invece come diffusore per l'inverno è effettivamente una stazione eccezionale e qui abbiamo la stazione di ricarica che è visibile appena entri nell'autogrill queste sono alcune foto ecco come vi dicevo prima i connettori sono tutti attaccati alla colonna in alta potenza si fa così il connettore è sulla colonna i supercharger di Tesla hanno il connettore sulla colonna che poi va sul veicolo una questione di sicurezza di potenze impegnate ma anche molto praticamente di peso del cavo peso del cavo questo cavo pesa circa 15 chili quindi ovviamente cavi di alta potenza devono essere attaccati alla colonna appunto la posizione quella strategica di ingresso in autogrill questo è un autogrill da mi pare 12 o 15 mila visite al giorno quindi è un autogrill enorme con tutta quella noi abbiamo messo il nostro marchio ovunque comunque tutta la parte di comunicazione quella che vedete qui è un'opelampera questa è una parte più tecnica ma direi di non scendere c'è la corrente di pensiero della corrente continua la corrente di pensiero della corrente alternata gli standard ci sono case come la Tesla che ne adotta il Tesla può ricaricare praticamente da qualsiasi presa dalla presa a muro fino alle prese ultra rapide si sta ancora definendo però diciamo che lo standard dovrà essere combo quindi anche la BMW monta a bordo un combo che vuol dire connettore che accetta sia la corrente continua che l'alternata ad alta potenza questa è la stazione di ricarica qui non è un corso di installatori quindi non entro nello specifico questa è l'applicazione che controlla la stazione di ricarica attualmente appunto fai l'avvio di ricarica e ti ricarichi però c'è l'opzione appunto di utilizzare l'app per fare una ricarica rapida direttamente e poi questo c'era il progetto di mobilità e di visibilità che è quello che seguiamo sempre noi dal punto di vista di comunicazione di fare in modo che ci siano dei progetti sperimentali in cui il veicolo viene utilizzato qui per sei mesi una Nissan Leaf è stata utilizzata dal direttore di quel centro che faceva circa 110 km al giorno ricaricando da quella colonna noi abbiamo fatto una raccolta dati su quello che è l'utilizzo ansia da ricarica non ne ha mai avuta si è messo a piangere quando la macchina ha terminato i sei mesi di comodato però diciamo che dal punto di vista di sperimentazione è stato un successo quindi un personaggio una persona che fa una media abbastanza alta rispetto a un italiano normale 110 km al giorno si è trovato con l'elettrico in maniera perfetta abbiamo fatto anche una stima dei costi rispetto alla vettura normale effettivamente è più che valido io ho terminato noi abbiamo sede a Milano in Viale Monza 270 e questi sono poi i miei riferimenti e sono a disposizione per le domande che vogliate farci io come programma adesso ci sarebbe l'intervento di CNA che vuole fare dei saluti in modo anche poi non so non sono capito bene devono andare via poi passerei a Davide e Francesco lo terrei nel pomeriggio perché così chi se ne vuole andare magari che ha deciso il tecnico potete martellare voi comunque potete scrivermi direttamente oppure quando siamo qui vogliamo fare quattro chiacchiere io ci sono certo ah ok perfetto sì 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 benissimo tanto va bene grazie dell'attenzione allora vengo lì sì sì perché mi trovo per lo streaming quindi mi sentirei un ritorno di casse e quello del genere no è per lo streaming per il web non ci registro non ci sono ci arrivo e lo sapete perché ci arrivo io sono un'autoriparatrice non si direbbe ma lo sono allora innanzitutto mi presento Francesca Soardi qualcuno già qui mi conosce di vecchia data vecchia data dal futuro che sono anziana però perché ho un'officina ormai sono 50 anni che esiste la mia azienda esiste da mio padre sono presidente della CNA Puglia e presidente CNA Puglia anche come centri di revisione e anche autoriparazione quindi tutto quello che riguarda il settore veicoli autovetture trasporto su pneumatici quindi su gomma io ve lo rappresento anche a livello nazionale sono quindi anche vicepresidente nazionale per l'autoriparazione e portavoce nazionale presso tutte le commissioni ministeriali prima nominato anche il direttore della motorizzazione generale Maurizio Vitelli io sono in commissione tecnica per CUNA e per il CISPRAD quindi sono come il prezzemolo nella minestra sono ovunque allora io ho iniziato la mia attività proprio come gommista non so se qualcuno ha il mio cognome lo ricorda anche soprattutto per gli pneumatici e sono anche il primo sono stata la prima donna come responsabile tecnico alle revisioni operatrice proprio di linea quindi sensibile incominciato alla mia attività perché ero sensibile all'ambiente essendo su linea prova gas diciamo qui inquiniamo inquiniamo tutti insomma la mia attività all'interno dell'associazione è iniziata anche per la sensibilizzazione nel settore proprio per l'ambiente sono ormai anni sono arrivata a diventare poi presidente di CNA allora l'associazione perché è sensibile all'aspetto proprio restringiamo il cerchio all'aspetto e abbiamo appoggiato fortemente Francesco per questo progetto perché ci crediamo nell'auto elettrica però siamo autoriparatori cioè il nostro indotto non si deve solo bloccare nella trasformazione dell'auto elettrica noi abbiamo tutto un 360 gradi che circola e veicola sul veicolo noi siamo operatori a 360 gradi cioè noi abbiamo gli pneumatici siamo meccanici anzi ora meccatronici siamo anche carrozzieri ritornando proprio alla dimostrazione allora ormai le commissioni sono presiedute tutte le commissioni tecniche sono presiedute da associazioni di categoria che supportano non è il contrario è l'associazione che supporta l'azione dei ministeri nel caso specifico ogni decisione viene effettuata e viene proprio si parla a un tavolo tecnico attraverso le associazioni di categoria CNA è molto presente ripeto torno io sono il prezzemolo io sono presente in ogni commissione per i gommisti per i meccatronici per i carrozzieri per i centri di revisione quindi la trasformazione di auto in elettrica anzi di un veicolo non è semplice non è semplice da un punto di vista di procedura burocratica è più semplice farla che poi portarla su carta noi stiamo operando proprio in questo settore per superare quel famoso articolo 75 non so se qualcuno qui sa di che cosa parlo che sono tutte le procedure operative di cambio di destinazione di fattura proprio del veicolo l'ultima circolare ve lo dico giusto per farvi intendere le luci a led portate su un veicolo che non è supportato all'origine quindi non è omologato deve subire aggiornamento e approvazione dal CPA è l'ultimissima ecco le luci led quindi figuriamoci l'intero ecco sistema allora noi stiamo cercando di sburocratizzare questa di creare un po' più di flessibilità cioè non ci dobbiamo fissare sulle luci per fare una trasformazione perché si cambiano i cablaggi quello che vogliamo allora stiamo appoggiando e stiamo fortemente lavorando per superare il famoso articolo 75 vogliamo rendere i veicoli da benzina gpl metano o diesel in auto elettriche in veicoli elettrici se c'è un'omologazione superabile in tempi brevi lo dobbiamo fare non dimenticando tutto l'indotto cioè se uno vuole andare ancora col veicolo a benzina lo può fare ma lo deve fare rispettando dei parametri che ora sono regolamenti europei diventano direttive quando li portiamo in Italia ma quando c'è un regolamento europeo noi dobbiamo chinare il capo dire signor sì al regolamento europeo quindi l'associazione di categoria le associazioni lavorano fortemente su questo oltre che supportare le varie categorie singolarmente un'altra cosa velocemente l'ultimo chi è gommista c'è un decreto gommisti che sta girando è stato approvato poi amplieremo anche questo perché farà parte anche del progetto auto elettriche che attualmente non vi riguarda non ci riguarda ma ci riguarderà perché c'è un sistema di riconoscimento anche di alcuni si chiama cyber tire all'interno degli pneumatici ci sarà un microprocessore che trasmetterà i dati al veicolo si è bloccato per un attimo poi verrà ripreso proprio in virtù della trasformazione dell'auto elettrica quindi cercheremo di creare un'omologazione globale anche per questo altrimenti se stiamo ad aspettare tutte le omologazioni neanche i miei nipoti vedranno più queste trasformazioni mi scusi se la interrompo io di questo ne senti parlare all'autopromo di Bologna quattro anni fa o due anni fa no quattro anni fa poi non sono fatti un riadento allora il compito dell'associazione è quello anche di non gravare sull'economia delle singole imprese allora quando vediamo che un progetto è troppo oneroso siamo anche noi prima a bloccare perché chi vi rappresenta è un imprenditore quindi come tale sa quanto economicamente allora se per il momento un progetto si può bloccare perché non deve arricchire le casse di qualcuno ma deve agevolare il nostro lavoro per poter ecco noi vediamo di tamponare di bloccare e ci siamo riusciti in virtù di questo nuovo progetto perché una cosa è renderlo farlo entrare in un sistema una cosa isolarlo e qualcuno io dico fra virgolette l'avvoltoio poi subito si butta sul cibo ecco quindi cerchiamo anche di tamponare il sibertai sarà ormai il futuro sarà tutto collegato al sistema non mi voglio rubare altro tempo volevo solo dirvi che come associazione siamo molto presenti io non so se hai preso i nominativi già di tutti loro l'ha preso perché a me piacerebbe anche proseguire l'associazione la forma associativa per l'informazione di tutto quello che avverrà lo faremo insieme collaborando e quindi trasmettendo il massimo dell'informazione a tutela della categoria io vi ringrazio per l'attenzione non so se i ragazzi dello streaming vogliono mettere il microfono a Davide anche Davide non lo presento perché si presenterà da solo però fa parte di uno spin off che io ho fortemente voluto perché stanno facendo cose stanno facendo cose molto interessanti a voi ho invitato anche un altro spin off del Friuli che si occupava invece di informatizzazione delle macchine elettriche spero che il termine sia grazie ciao ci sentiamo spero che il termine sia giusto cioè loro si occupavano si occupano ancora di sistemi informatici sulle macchine elettriche ok vai niente buongiorno a tutti io sono Davide Tarsitano sono ricercatore del Politecnico di Milano e da quasi un anno ormai abbiamo dato vita a uno spin off eco che vuole appunto realizzare kit per la trasformazione di veicoli e la realizzazione di piccole flotte di veicoli ibridi o elettrici per cui vi racconterò adesso tra stamattina e oggi pomeriggio un piccolo quadro generale su questo genere di veicoli sulle trasformazioni possibili e sui passi da effettuare per poter realizzare un veicolo di questa natura Francesco scusa giusto sulle tempistiche quanto uno avretta no visto che siamo un po' retardo sediamo un po' allora dal nostro punto di vista l'esperienza è ormai pluriennale vedete qui rappresentati un po' dei veicoli sui quali abbiamo realizzato lavorato direttamente per cui abbiamo la trasformazione di una Fiat grande punto in un veicolo imbrido elettrico di tipo plug-in e parliamo degli anni 2007-2008 quindi all'epoca era una cosa abbastanza innovativa nel senso che il paragone unico esistente era la Prius della prima generazione un veicolo una trasformazione di un Alfa Mitro in un veicolo puramente elettrico che è finito in Corea perché è stato direttamente finanziato da un'azienda traduttrice di batteria coreana che voleva un laboratorio viaggiante per fornire delle stime di vita delle proprie batterie su cicli reali e non simulate al banco un mezzo da 35 quintali sulla stessa filosofia della punto nel senso che sono tutti veicoli imbridi per cui con due profulsori di cui almeno uno è reversibile questa è la definizione formale di un veicolo imbrido ma diciamo che con una discreta autonomia in puro elettrico perché rispetto all'imbrido classico in cui faccio lo spunto dal semaforo mi muovo fino a 10-15 all'ora con solo propulsore elettrico e entrambi questi veicoli sono in grado di assicurarmi 30-40 km in puro elettrico nell'uso urbano per cui fino a una settantina di chilometri all'ora dopodiché chi meglio del guidatore sa dove vuole andare quindi sa in che modalità deve muoversi allora sono in città giro una manopolina su elettrico e mi muovo a prestazioni ridotte perché tanto non ho bisogno di 30 all'ora in città ma ho tutta l'autonomia necessaria per muovermi in città piuttosto che per fare il giro delle consegne degli ultimi miglio per cui il Bartolini il DHL che si muove molto in città e poco in tangenziale mentre poi riesco in tangenziale e rimetto la manetta su motore a combustione interna e ho tutta l'autonomia che posso immaginare negli ultimi anni invece ci stiamo muovendo visto che stanno arrivando le grosse case automobilistiche in questi settori ci stiamo muovendo anche nelle macchine operatrici per cui questo è l'ultimo progetto a cui siamo arrivati in fondo ed è sostanzialmente la trasformazione o la rivisitazione di camion betoniera da imbrido serie di tipo idraulico questo è un imbrido serie elettrico con possibilità di accumulo a bordo per cui ha una batteria che viene caricata o con un generatore a bordo mezzo o dalla rete elettrica ed è in grado di operare tutte le mansioni operative sia all'impianto dove il cemento viene prodotto sia in cantiere dove viene scaricato con motore diesel completamente spento questo vuol dire nei grossi cantieri dove ormai si lavora anche di notte nelle grandi città potersi muovere sicuramente a rimorosità ridotta e anche con un beneficio per gli operatori che operano in cantiere non da ultimo questo oggetto che è stato presentato al bauma al fiera bauma monaco primavera scorsa ci ha consentito di agganciare dei rapporti abbastanza stretti con man per cui è abbastanza probabile che sul loro mezzo elettrico il metropolis finirà questo kit nel giro di qualche anno perché il metropolis di man non è ancora un prodotto che viene dichiarato da loro pronto per essere venduto a degli utilizzatori o allestitori come definiscono in questo mondo ok quindi rapidamente questi sono i macro temi che vedremo nei miei due interventi a un certo punto ci fermeremo per riprendere nel pomeriggio allora da punto di vista della struttura generale giusto per avere in mente i macro componenti e quanto venga semplificato passando a un veicolo puramente elettrico cominciamo a vedere che cos'è un veicolo convenzionale per cui che sia gasolio benzina piuttosto che metano gpl la struttura è sempre la stessa abbiamo un grosso osservatorio un motore che si trascina un sacco di componenti ausiliari tra cui pompe ventole pensate solo a cinghia degli ausiliari a cinghia di distribuzione quante puleggie ammontate sono tutti carichi che si trascina dietro abbiamo una frizione un cambio e sistema di trazione allora l'efficienza media di questi oggetti nel suo insieme è molto bassa nel senso che arriviamo a 35% anche di motore a combustione interna nei suoi punti migliori ma poi dobbiamo ricordarci che c'è tutta la serie di rendimenti anche a valle dello stesso allora quali sono le soluzioni possibili allora tengo buono tutto quello che è il ponte differenziale e una riduzione perlomeno fissa nel senso che quello che dicevano loro prima è di dire cambio solitamente otteniamo può essere che venga declassato un cambio a due marcio addirittura rapporto fisso questo dipende dai conticini dell'ingegnere di turno insomma però la struttura rimane molto semplice ho un motore elettrico con un convertitore e un sistema di accumulo a bordo questo convertitore è necessario in quanto devo utilizzare un motore a caratteristica variabile e non un semplice motore comandato direttamente dalla rete perché non è possibile in questo caso con l'aggiunta del termine plug-in si intende un sistema di carica che è installato a bordo del mezzo per cui è diciamo differente dal mondo muletto in cui il caricabatteria sta a terra ho un caricabatteria a bordo che mi consente di caricare questa batteria in qualsiasi posto io mi trovi dove si giustifica questo oggetto laddove la batteria ha una capacità non piccola nel senso le prime Prius avevano una batteria molto piccola in quantità energetiche per cui non avevano questo oggetto in quanto sarebbe stato un grosso ingombro un grosso componente quando aveva una batteria molto piccola da caricare a bordo quindi in mia di massima i vantaggi del mezzo puramente elettrico rispetto a quello elettrico sono sicuramente una semplificazione della struttura del powertrain nel senso che non ho più il cambio non ho la frizione ho un miglioramento dell'efficienza complessiva che si possa effettuare il recupero di energia lo sappiamo le zero emissione ma unicamente all'utilizzo nel senso dobbiamo sempre vedere come viene fatta l'energia sicuramente una silenziosità durante l'utilizzo e una manutenzione ridotta nel senso che pensiamo a filtri oli e quant'altro siamo abituati a mantenere sulle nostre automobili convenzionali molti di questi vengono ridotti e anche se vogliamo vederla tutta anche l'impianto frenante se io sfrutto il motore elettrico anche come freno ho una minore usura delle pastiglie freno e anche delle gomme in alcune condizioni svantaggi stando su mezzi convenzionali l'autonomia ormai è quella dei centinaia di chilometri ci si arriva senza problemi centinaia di chilometri all'ora senza problemi che sono sotto alcuni punti di vista spaventosi perché siamo abituati a mezzo benzina ma spesso sono più che sufficienti per un utilizzo ordinario dell'automobile secondo le ricariche convenzionali si va dalle 4 alle 7 ore a seconda della capacità energetica che installo a bordo sistemi di carica rapide arrivano fino a mezz'ora 40 minuti non dimentichiamoci che queste cariche rapide hanno un grosso impatto sulla rete nel senso che spesso mi viene a dire la batteria come un secchio d'acqua da riempire nel senso lo posso riempire tanto più velocemente tanto più rubinetto grosso a monte allora però avere una colonia di carica a 50 kilowatt o averne adesso 4-5 lì vicino vuol dire potenzialmente impattare sulla rete per carichi impulsivi da centinaia di kilowatt quindi questi tipi di ricarica ben vengano dal punto di vista dell'automobile ma vanno ben pensati dal punto di vista della rete spesso si sta tendendo a studiare dei sistemi di accumulo locali sotto la colonnina in modo da ridurre il più possibile l'impatto verso la rete nel senso che io quando carico la Tesla giusto per dire una e assorbo 50 kilowatt per mezz'ora posso magari assorbire dalla rete 10 kilowatt per 5 ore perché me ne passa una ogni 5 ore alla colonnina e man mano carmi una vecchia batteria magari anche dismessa dalle automobili per cui pensare a una seconda vita delle batterie in impieghi stazionari in modo da ridurre l'impatto verso la rete configurazione dei mezzi imbri diciamo ce ne sono di diversa natura micro, mild o full non sono nient'altro che delle nomenclature che differenziano la taglia o rapporto tra la taglia dell'oggetto elettrico e la taglia dell'oggetto endotermico plug-in ci definisce la presenza a bordo del caricabatterie mentre l'extended range è se ne è parlato prima quel motopropulsore o motogeneratore di piccola taglia che mi consente di estendere un po' l'autonomia a partire sempre dagli idrocarburi dal punto di vista del mezzo cosiddetto ibrido serie diciamo abbiamo la medesima struttura di un mezzo puramente elettrico l'unica cosa che l'alimentazione viene fornito da un gruppo sostanzialmente un gruppo elettrogeno questo motore visto che lo andrà a far lavorare a punto fisso nel senso che non ha più una connessione meccanica con le ruote per cui posso lavorare benissimo a punto fisso riesco a ottimizzare la mappatura di questo motore per lavorare in un piccolo intorno del suo campo di operatività per cui riesco ad avere un'efficienza superiore rispetto all'efficienza del motore montato attualmente sulle automobili perché deve lavorare in grossi range operativi sia dal punto di vista dei giri che della coppia allora diciamo che è la struttura tipica delle navi dove questo oggetto non c'è piuttosto che anche dei treni diesel i treni diesel hanno esattamente questa struttura senza sistema di accumulo l'imitrio parallelo invece ha agenti sullo stesso albero meccanico sia il motore endotermico che il motore elettrico se riusciamo nel senso che questa poi è una questione tecnologica a collegare il motore elettrico a monte dell'unico rapporto del scusatemi del cambio installato a bordo del mezzo riusciamo a ottimizzare le dimensioni del motore elettrico in quanto riesce a generare una velocità superiore e quindi ne guadagna in compattezza quindi se immaginiamo i veicoli mild e in full imbrita abbiamo una batteria di una certa dimensione quindi un certo grado di imbridizzazione ovvero il rapporto tra la potenza elettrica e la potenza termica è installata a bordo man mano che ci spostiamo verso un veicolo tipo plug-in abbiamo una batteria che cresce le dimensioni e vediamo la presenza del carica batteria a bordo micro imbrid o start and stop sono quei mezzi che spesso aiutano giusto allo spunto con la trazione elettrica per poi lasciare tutta la fase di trazione al motore endotermico esistono poi soluzioni più innovative nel senso che abbiamo vinto qualche anno fa un progetto di ricerca ma unicamente ricerca nel senso non applicata sono progetti tipicamente per l'università per cui si cerca di proporre qualcosa che verrà molto in là negli anni a loro strutture a corner indipendenti per cui io ho 4 azionamenti e 4 motori elettrici installati a bordo del veicolo una batteria a bordo dello stesso con il suo solito caricabatterie e il grosso punto di innovazione è questo generatore elettrico nel senso che non è il solito generatore elettrico rotativo ma è un sistema lineare quindi ho un doppio pistone con con dei magneti permanenti montati nella camera esterna e in un qualche modo iniettando del gasolio nebulizzato HCC la definizione termica non mi ricordo tecnica non mi ricordo l'acronimo per cosa stia perché io mi occupo di tutto quello che sta a valle e della macchina elettrica nel senso che questi erano i nostri colleghi del dipartimento di energia sostanzialmente c'è un cilindro libero non ha dei vincoli meccanici viene iniettato carburante nelle due testate e attraverso il motore elettrico lineare viene controllato la posizione del pistone e riesco a estrarre energia in questo modo con un'efficienza abbastanza elevata nel senso che si riusciva ad arrivare tra il 45 e il 50% di efficienza per cui sicuramente superiore rispetto ai convenzionali motori questo è quello che vi ho detto adesso infatti giusto per dare un'idea non so se siete abituati a vedere questo genere di mappe se pensiamo a un motore endotermico questo a memoria vi direi che è la mappa di una non so se è di un fire o di un 1200 16 valvole fiat riusciamo come vedete ad avere il massimo dell'efficienza nell'intorno del 30% solo una piccola zona del campo di operatività del motore stesso appena ci allontaniamo da questa zona rendimento scende molto anche al di sotto del 20% se ci muoviamo invece su un motore elettrico e questo è un motore che sicuramente è un asincrono riusciamo ad avere rendimenti migliori come sempre non è un rendimento non è definito unico in qualsiasi punto del campo di operatività ma anche il motore elettrico ha un rendimento nullo se voi pensate nel momento in cui il motore elettrico si trova da coppia ma è fermo per cui esattamente allo spunto in uscita non sta erogando potenza mentre lo state alimentando in una qualche maniera per cui buttate dentro della potenza del motore ma non esce nulla per cui anche il motore elettrico ha rendimento nullo in alcuni punti del suo campo di operatività però vedete come qua passiamo da 90 a 70 mentre qua passiamo da 30 a 20 molto più quindi abbiamo un rapido deperimento del rendimento del motore endotermico rispetto alla zona di massimo mentre qui il deperimento è un po' più graduale devo scendere proprio a basse velocità per avere rendimenti molto bassi allora giusto per avere un'idea abbiamo fatto un'indagine su un'efficienza media tank to wheel per cui dal serbatorio alla ruota di differenti tipologie di mezzi e ci siamo soffermati cercando di ricostruire quali siano le effettive emissioni in termini di CO2 e in termini di energia utilizzata da combustibile fossile considerando la media europea di produzione energetica per cui 27% di energia prodotta da fonti nucleari 20% da rinnovabile e 53% fossile poi questi sono numeri che variano di anno in anno hanno veramente una variazione molto grande considerando i singoli stati le singole zone piuttosto che l'Unione Europea quella allargata per cui sono successibili di questo dato che è fondamentale nel senso sappiamo tutti che il mezzo elettrico è qualcosa di positivo e tutti ci diciamo ma dipende da come facciamo l'energia questo era un tentativo di dare una risposta a questo dipende da come facciamo l'energia allora fissiamo una condizione e ben detto guardiamo un attimo la media europea per cui vedete come allora se io ho un mezzo convenzionale a benzina ho circa 160 grammi di CO2 al chilometro con un mezzo ibrido riesco a ridurre nel senso che riesco a ridurre molto le emissioni a bassa velocità su un mezzo elettrico dove l'energia viene prodotta da fonti fossili diciamo siamo abbastanza vicini se guardiamo l'estremo superiore possiamo arrivare anche alla metà se facciamo energia in un certo modo nel senso che qua stiamo considerando di fare energia unicamente da fonti fossili nel caso l'energia arrivi da rinnovabile siamo d'accordo che è un fascia zero se consideriamo il mix europeo siamo a un 43 su 160 per cui l'energia che sto utilizzando la faccio o da un combustibile o da fonti totalmente rinnovabili o la faccio considerando la media europea per cui diciamo che comunque abbiamo un abbattimento a un quarto delle emissioni di CO2 l'ultimo che è un inbredo plug-in per cui considero di fare 40 km più adesso non c'è riportato il numero però considero di fare una quota parte della mia percorrenza impuramente elettrico per cui con questo consumo con questa emissione di CO2 adesso lo faccio in modalità termica per cui ovviamente ho un incremento e mi trovo a metà strada tra questo e questo dal punto di vista dell'energia abbiamo sostanzialmente lo stesso conto riportato come energia necessaria al chilometro nelle varie condizioni ma alla fonte per cui o considerando l'energia necessaria come idrocarburo utilizzato direttamente sull'automobile piuttosto che come idrocarburo bruciato nella centrale energetica piuttosto che come diciamo somma dei poteri calori inferiori del fossile piuttosto che delle altre sostanze lasciatemi dire così bruciate nell'ennesima centrale europea e questa era un'idea dei costi di percorrenza dei costi per l'utente finale si passava da un 8 euro ogni 100 chilometri fino a 3 e mezzo no scusate ok tipicamente il punto cruciale nel voler effettuare una trasformazione di un mezzo è quello di andare a dimensionare tutti i sistemi che lo compongono nell'ottica di capire cosa è veramente necessario a seconda della missione operativa del mezzo stesso è un po' quello che si diceva prima cerchiamo spesso un'automobile che faccia 400 chilometri ma non sempre ne abbiamo bisogno allora bisogna un attimo fare attenzione a che cosa è veramente necessario per il mezzo in modo da non esagerare con i componenti che mettiamo a bordo solo perché abbiamo in mente l'automobile da 400 chilometri questo vuol dire che oltre che capire bene la dimensione degli oggetti dobbiamo un attimo ragionare su le tecnologie disponibili nel senso che parlando di automobili ovviamente abbiamo spesso bisogno sia di grossi picchi di potenza che di una considerabile energia per cui spesso finiamo in questo grafico in quest'area del grafico dove abbiamo una grossa potenza specifica e una grossa energia specifica non è sempre la soluzione migliore nel senso che se pensate a un autobus avrete sicuramente bisogno di più energia che potenza nel senso che è un tipo di servizio che tipicamente lavora 10-12 ore al giorno mentre l'automobile viene utilizzata per qualche ora al giorno per cui ha bisogno di immagazzinare una grossa quantità di energia e di conseguenza ne deriva una grossa potenza disponibile a bordo del mezzo per cui spesso questo genere di grafici adesso questo è storico nel senso che è veramente storico il 2004 però lo troviamo aggiornato da n varie fonti ma l'idea che volevo passare è quella di dire soffermiamoci un momento nel momento in cui abbiamo bisogno di un accumulo energetico cercando di capire di che cosa abbiamo effettivamente bisogno se grossi spunti di potenza o grosse quantità di energia in modo da scegliere la tecnologia un po' più adatta diciamo che questo è lo stesso grafico visto un po' più dettagliato sulle tipologie di batterie e capacitori di varia natura se torniamo più nel nostro ambito per cui torniamo nel mondo automotive abbiamo ancora una volta differenti zone a seconda del tipo di veicolo che stiamo andando a costruire allora se io ho un veicolo di tipo ibrido diciamo da potenza elettrica installata molto piccola avrò dei tempi di scarica molto piccoli per cui in genere ho sia potenze che energie installate molto piccole tant'è che la priu della prima generazione vi spinge fino a 10 km all'ora per qualche centinaio di metri per cui poca potenza e poca energia se saliamo se saliamo sulla diagonale è chiaro che salgono linearmente entrambe le grandezze fino ad avere qualcosa che ha pieni prestazioni poi posso caricare diciamo il mio sistema di accumulo di servizi ausiliari aggiuntivi se io voglio su un mezzo far andare il climatizzatore piuttosto che l'aria calda anche quando sto andando solo a energia elettrica per cui con motore termico spento è chiaro che devo caricare la mia batteria di questi di questi carichi per cui ho un qualche cosa che va a crescere come dimensionamento energetico senza aumentare i picchi di potenza l'importante è anche guardare su queste linee su queste rette i tempi di scarica per cui dal micro agli hybrid un po' più consistenti passiamo dai tempi di scarica di 10 secondi a decine di minuti mentre poi su un veicolo elettrico solitamente si parla di qualche ora di percorrenza questo era giusto un'idea per dire se voglio dimensionare qualcosa per un mezzo devo farmi un'idea del percorso della mansione operativa del mezzo stesso allora c'è capitato di fare questo genere di elaborazioni di dati più volte nel senso che c'è capitato sulla betoniera che abbiamo visto prima questo invece non è riportato nelle foto iniziali ma è un lavoro fatto per lo studio di un autobus a trazione completamente elettrica alimentato da un banco di supercondensatori presenti a bordo del mezzo stesso è chiaro che lì la questione è ancora più delicata nel senso che devo sapere esattamente il percorso del mezzo sapere come è fatto quali sono i cicli tipici di velocità del mezzo e anche l'orografia della città dove vogliamo installarlo perché l'idea era quella di dimensionare un pacco di supercondensatori che fosse in grado di alimentare il mezzo fra una fermata e la successiva dell'autobus utilizzando diciamo il meno possibile da punti di vista energetico un pacco batterie che comunque era presente a bordo perché se trovo più traffico c'è la deviazione dovevo comunque portare a termine la missione e questo studio è stato fatto sull'autobus e non su altri mezzi perché ancora una volta l'autobus è un mezzo che lavora intensamente durante la giornata si parla di 10-12 ore di lavoro al giorno se io utilizzo una batteria ioni di litio anche di buona qualità a bordo di questo mezzo dopo un miliario di cicli la batteria comincia a decadere in termini di prestazioni di accumulo per cui su un mezzo del genere il decadimento della batteria sarebbe molto rapido nel tempo mentre utilizzando un pacco di supercondensatori che hanno ordini di grandezza superiori come vita io riesco ad utilizzare quasi unicamente l'energia del supercondensatore preservando la vita della piccola batteria che metto a bordo quindi dal punto di vista energetico diciamo che c'è da mettere insieme qualche piccola equazione nel senso che spesso se pensiamo unicamente al dimensionamento del power 3 nel sistema di accumulo è sufficiente a risolvere la dinamica longitudinale nel mezzo per cui mettere insieme tutte le forze resistenti agenti sul mezzo che non sono nient'altro che la componente gravitazionale questa questo qui è l'attrito arrotolamento e l'attrito aerodinamico dopodiché devo fare un'equazione che mi dice la forza che io immetto l'energia che io immetto nel mezzo meno quella che perdo come sommatore delle forze resistenti diventa l'accelerazione che io riesco a dare al mezzo questo si parte da cicli convenzionali quindi cicli standardizzati per poi passare invece allo studio di cicli cicli operativi del mezzo considerato questo ci consiente di valutare oltre alle performance effettive la potenza effettivamente richiesta dal mezzo nelle differenti condizioni di utilizzo ad esempio vedete che questo mezzo per fare ciclo ECE che è lungo circa un chilometro ha bisogno di 0,18 kWh al chilometro se io non utilizzassi il recupero energetico durante la fase di frenatura il veicolo di sé ne ha bisogno di 0,11 0,12 mentre in batteria per via di tutte le disefficienze presenti nella trasformazione dalla batteria alla ruota ne necessita in realtà di circa 0,14 l'idea è quella esattamente di dire partiamo da quello che mi serve per eseguire questo ciclo e voglio capire quant'è l'effettiva energia che io devo stoccare in batteria in modo da compiere esattamente quel ciclo quindi questa è l'equazione di moto che dobbiamo andare a integrare lo sforzo di trazione è somma di entrambe le coppie che arrivano o dal motore elettrico o dal motore endotermico ovviamente pesato attraverso le disefficienze dei vari organi in trasmissione e dalle varie riduzioni che sono presenti all'interno della catena quindi se io voglio andare a valutare l'effettivo consumo ai capi della batteria devo mettere insieme un modello di simulazione che consideri grossomodo questi oggetti nel riquadrone giallo troviamo tutti i componenti che sono presenti solitamente a bordo di un mezzo convenzionale qua sopra andiamo a trovare tutti i mezzi che vado gli oggetti che vado ad aggiungere al mezzo nel momento in cui io faccio una trasformazione e considero la trasformazione in un mezzo ibrido non puramente elettrico nel senso che preparo un modello che sia più flessibile possibile e quando il mezzo diventa totalmente elettrico scollego la parte qua sotto quindi abbiamo da valutare i flussi di potenza che sono quelli convenzionali per cui energia chimica che diventa energia meccanica che va al mezzo piuttosto che energia elettrica che viene trasformata attraverso l'inverter e dal motore che finisce ancora una volta nella riduzione e torna al nostro mezzo non bisogna dimenticarsi di alcuni oggetti che risultano fondamentali soprattutto in alcune modalità operative allora ad esempio se voi considerate di lavorare per lunghi periodi con il motore endotermico spento dovete mettere un qualcosa che faccia le veci d'alternatore per cui avete un convertitore che a partire dall'energia di batteria vi tiene cariche in tampone le batterie a 12 volt piuttosto che non dovete dimenticare che esiste un sistema cioè che spesso esiste un sistema di raffreddamento aggiuntivo ad acqua che per via delle temperature operative degli oggetti elettrici rispetto a quelli meccanici non può essere condiviso allora voi vi trovate tipicamente l'acqua nel motore endotermico a 90 gradi se voi prendete quest'acqua a 90 gradi la buttate dentro all'inverter non sta molto bene nel motore ce lo si può permettere nel senso che lì le temperature basta salire con la classe di temperatura degli avvolgimenti non c'è problema a stare anche a 150 gradi solitarmente sugli inverter 60-70 gradi è il limite superiore oltre il quale è difficile andare a meno di sovradimensionare notevolmente questo oggetto allora rispetto al modello che si può costruire tendenzialmente noi lavoriamo partendo dal mezzo man mano vado a ricostruire quello che viene richiesto per eseguire un certo ciclo operativo per cui il mezzo ha una certa velocità una certa accelerazione che diventa una velocità che diventa una corrente che diventa una corrente in batteria e tengo in considerazione tutti i limiti fisici dei vari oggetti in modo da considerare qualsiasi condizione di trazione anche nei casi degradati vuol dire che io in questo modo sono in grado di valutare quale sia la massima accelerazione ad esempio a batteria stracarica e a batteria quasi scarica posso considerare eventuali limitazioni presenti nella coppia erogata dal motore in particolari condizioni dell'inverter per cui restiamo ad avere una cosa un po' più flessibile il modello è strutturato solitamente in questo modo allora prende come ingresso un profilo di velocità che è quello che abbiamo registrato che abbiamo visto prima ad esempio per l'autobus c'è un qualcosa che fa le veci dell'automobilista nel senso pigia il pedale al posto dell'automobilista per cui sostanzialmente dà un riferimento su un acceleratore e un freno equivalenti spesso va interposta una logica di controllo del mezzo nel momento in cui il mezzo non sia puramente elettrico nel senso che se io devo coordinare il motore elettrico e il motore endotermico il pilota lavora sempre con un pedale che si chiama acceleratore e non con due pedali che si chiama acceleratore del motore endotermico e acceleratore del motore elettrico per cui c'è una logica da qualche parte in una qualche centralina che divide l'unico pedale acceleratore del pilota in due pedali per i due motori a disposizione brake e il brake ovviamente posso superire una certa parte di frenatura col motore elettrico ma spesso viene mantenuto quello meccanico in quanto ha potere frenante nettamente superiore alla massima coppia del motore elettrico per cui quello diciamo che c'è sempre il tutto finisce al veicolo dove viene sostanzialmente interrata tutta la potenza generata dai due azionamenti per cui si ricostruisce la velocità che viene utilizzata in confronto con il riferimento chiesto al motore stesso in questo genere di modelli in questo nei nostri modelli solitamente tendiamo a mettere qualcosa rappresentativo di ciascuno di questi macro blocchi le filosofie che utilizziamo sono due nel senso abbiamo dei modelli basati su mappe allora vediamo qui l'esempio della batteria nel senso che a partire dai dati del costruttore sono le tre figurine che vedete per cui solitamente avete la tensione a differenti valori di corrente di scarica piuttosto che a differenti temperature riusciamo in un qualche modo a costruirci una mappa che in funzione dello stato di carica in funzione della corrente assorbita ci dà la tensione del mono elemento equivalente nel senso che noi ragioniamo considerando n elementi identici uno all'altro piuttosto che questa parte è possibile sviluppare modelli dinamici equivalenti che diano la stessa uscita ma con anche un certo ritardo nel tempo in quanto spesso la batteria la possiamo vedere come un condensatore di grossa capacità per cui sostanzialmente ha variazione di tensione infinita infinitesima nel momento in cui estraggo dalla corrente da essa con in parallelo un condensatore molto più rapido per cui abbiamo una rapida variazione di corrente nel tempo nel momento in cui faccio una richiesta alla batteria dei componenti che stanno a monte adesso non vorrei entrare nel dettaglio di queste equazioni però se pensate la batteria questo è il convertitore elettronico di potenza cosiddetto inverter che ci fa passare da una tensione continua a una tensione alternata in un qualche modo se voglio valutare a partire dalla potenza erogata dall'inverter la potenza assorbita dalla batteria quindi voglio valutare la sua disefficienza devo calcolare le perdite che ci sono su ciascuno di questi sei oggetti a semiconduttore che sono un po' diciamo il cuore della potenza dell'inverter la potenza persa su questi oggetti diciamo è somma di due contributi il primo è un'energia persa durante la fase di conduzione ed è ad esempio questa o questa per il l'Igbt o per il diodo nel senso che nel momento in cui questo oggetto è attraversato la corrente ha una piccola caduta di tensione nel senso che questo è un inter idealmente è un interruttore per cui o è completamente aperto o completamente chiuso ma nel momento in cui è completamente chiuso nella realtà delle cose non riesco ad avere un salto di tensione nullo per cui ho una piccola potenza persa sul componente l'Igbt la stessa cosa sul diodo in più esiste un'energia persa tutte le volte che io faccio cambiare stato a questi dispositivi quindi quando passo da lo stato aperto allo stato chiuso a una piccola energia persa idem per quando apro che moltiplicata per la frequenza mi dà una potenza dissipata questo lo possiamo calcolare per il singolo modulo se lo moltiplico per 6 ho la potenza persa tutto l'inverta allora l'andamento di queste curve tensione collettore emettitore piuttosto che tensione anodo catodo in funzione della corrente che attraversa i singoli oggetti ovviamente è una cosa non lineare che cerchiamo di linearizzare in una qualche maniera con delle formulazioni matematiche e considerando un'uscita di corrente di tipo sinusoidale e non la grandezza istantanea siamo in qualche modo in grado di ricostruire le perdite in ogni dispositivo a partire dal valore di corrente che sta transitando del motore non non mi addentro grazie ok poi giuro è finita la parte un po' più noiosa spero di non annoiarmi troppo però meno tecnica diciamo io non avevo informazioni sulla platea devo essere proprio onesto va bene dai ho capito facciamo così allora niente giusto per dire degli n motori possibili allora vedo abbastanza ridotto il tipo di motori utilizzabili a bordo di questo genere i mezzi a due motore a magneti permanenti sincrono e motore a sincrono o a induzione se pensate al motore a induzione il motore che comunemente trovate in qualsiasi industria l'unica cosa che lì è alimentato direttamente dalla rete per cui diciamo la caratteristica del motore è di tipo fisso ha la solita forma fatta così magari qualcuno se la ricorda avendo l'inverter a disposizione io posso utilizzare lo stesso oggetto presente nell'industria ma posso modularne la sua caratteristica adesso fatemi saltare su un'altra presentazione così spero di essere un attimo più chiaro come? no questo è quello del computer non è Milano allora solitamente noi motore a sincrono ha lo stesso statore di un motore a sincrono esistente nell'industria il rotore è lo stesso perché spesso e volentieri è pressofuso per cui la pressofusione si fa solo su numeri grandi per cui è quello uguale per tutti cosa si fa di solito si migliora il raffreddamento per cui rispetto alla solita cacassa in ghisa allettata si fa un qualcosa che va esterno all'amiarino di statore d'alluminio o d'acciaio con delle cave per il raffreddamento d'acqua l'avvolgimento spesso è fatto in forma tradizionale per cui col filo immagino che l'avvolgimento che fa Tesla non sia più col filo ma sia fatto in piattina questo perché se immaginate la cava il coefficiente di stipamento ovvero lo spazio che effettivamente riesco a riempire con il rame rispetto all'aria è molto maggiore nel caso di un conduttore quadrato che un rotondo questo è empiricamente evidente l'unica cosa che l'avvolgimento a filo è possibile automatizzarlo con macchinari semplici piuttosto che inserire le bobine a mano per farlo in piattina si fa da 30 anni il motore in piattina ma lo si faceva per i treni dove c'era un povero uomo che si metteva lì infilava le barre di ram e le piegava e tutto quanto adesso su scale di pezzi da milioni General Motors fa sistemi automatizzati per la produzione di statori di motore in piattina quello su cui volevo un attimo richiamare l'attenzione vostra giusto per è questa nel senso che questo è il classico la classica curva del motore asincrono alimentato da rete se voi pensate di cambiare la frequenza attraverso l'inverte nel secondo attacco più alla presa del muro che è a 50 Hz sono in grado di schiacciare o allungare la caratteristica in questo modo se io cambio anche il modulo alla tensione ovvero invece che 400 viene da 300 100 o 20 sono in grado di modulare in questa direzione in questo modo sostanzialmente sono in grado di approssimare la solita curva pensata a frequenza fissa e a tensione fissa in un range di variazione che mi copre qualsiasi zona al di sotto di queste curve per cui sono in grado di cambiare la caratteristica del motore mettendo il convertitore elettronico a monte torno all'altra presentazione per cui considerando i limiti del dispositivo elettronico che metto a monte e la tensione in ingresso alla batteria nel senso che è una tensione comunque variabile nel tempo sono in grado di ottenere diverse curve al variare della tensione di batteria ovviamente a batteria carica però piene prestazioni al decrescere la tensione batteria le prestazioni vanno via via calando leggermente attraverso questa procedura siamo anche in grado di ricostruire la mappa effettiva di efficienza del motore per cui in maniera alternativa posso utilizzare o le equazioni di prima o una mappa in un qualche modo precompilata attraverso le stesse equazioni dal punto di vista del motore endotermico solitamente si tende a utilizzare una mappa di consumo e una mappa di coppia per cui al variare della missione e dei giri del motore stesso ricostruisco la coppia effettiva erogata e il consumo istantaneo di combustibile e diciamo questo è quello che ci consente di mettere insieme tutti i blocchetti del nostro modello allora dal punto di vista dei mezzi a batteria è fondamentale per il livello tecnologico delle batterie attualmente presenti sul mercato un sistema di monitoraggio delle batterie stesse allora questo chiamatelo come volete c'è chi lo chiama BMS è il nome un po' più comune però lo sento chiamare un po' in tante maniere ha un po' tante funzioni e ho trovato un articolo che cercava di mettere insieme tutte per cui mi sembrava interessante vedere un attimo le tecnologie un po' più avanzate e le funzioni basilari che ci aspettiamo da questo oggetto innanzitutto ci aspettiamo che monitori costantemente lo stato di ciascuna cella costituente il pacco poi ci aspettiamo che ci dia un'idea di quanta autonomia quindi quanta energia ne rimane al suo interno vorremmo anche che ci desse un'idea di quanta sia la vita futura nel senso se questo pacco batterie ha vita ancora per un mese un anno o cinque anni poi che cosa vorremmo che pensasse lui alla carica della batteria nel senso che lui in sua piena autonomia si coordini con il carica batterie e gli allestitori del mezzo non ne vogliono sapere nulla che si preoccupi eventualmente della gestione termica del pacco batterie stessa qui dico eventualmente perché il fatto che sia necessario o meno un riscaldamento o raffrescamento della batteria dipende un po' da come la utilizzate e in quali ambienti pensate di mandare il vostro mezzo se lo mandate in Trentino probabilmente vi serve scaldare la batteria mentre se usate la batteria soltanto in sovraccarico magari vi serve raffreddarla per cui qua dipende un po' da ultimo vorreste che questo BMS bilanci gli elementi della batteria sappiamo tutti che le batterie a litio spesso sono leggermente diverse una dall'altra anche nello stesso lotto di fornitura perché la qualità produttiva non è ancora delle migliori per cui io durante la scarica e durante la carica devo uniformare lo stato delle celle stesse dal punto di vista dei metodi di bilanciamento ne esistono di diversa natura allora bilanciamento di tipo passivo che è quello più semplice da realizzare nel senso che vuol dire prendi l'elemento più scarico più carico e scaricalo leggermente fino a quando arriva al livello degli altri allora sicuramente la tecnica prende l'energia nella batteria la trasforma in calore molto semplice ha efficienza zero nel senso sto buttando via dell'energia è solitamente molto limitato come capacità di bilanciamento nel senso che io non posso avere grosse generazioni di calore all'interno del pacco batterie per cui riesco a fare un bilanciamento ma abbastanza lento nel tempo allora poi esiste un sistema attivo per cui attivo vuol dire che c'è dell'intelligenza da qualche parte c'è un trasferimento di energia non dissipativo che prende energia dalla singola cella la sposta in un non so come lo chiamano qua adesso in un master quindi prende l'energia dalla cella la mette da qualche altra parte temporaneamente e la stessa energia viene ributtata in una cella scarica allora questo è abbastanza semplice ma abbastanza lento nel tempo nel senso io posso prendere energia da una cella e da un'altra per cui riesco a fare uno spostamento alla volta perché mi muovo tra un modulo master e una singola cella sistemi un po' più evolute e sofisticati sono in grado di spostare energia direttamente da una cella all'altra senza passare dal modulo master che sta a monte piuttosto che bypassare una cella nel caso la cella sia o sovraccarica o sottoscarica io guardo lei perché ho capito su questo no ditemi adesso io purtroppo non ho avuto informazioni su su quale livello guardo lei perché a me l'ha parlato prima per cui la cosa va bene allora tralasciamo questa parte più di elettronica ok sicuramente c'è qualcuno che la vorrebbe ascoltare penso non lo so no non vedo un grande entusiasmo allora chiudo con una carrellata veloce su questo che so che qua ci siamo invece allora nel senso che dal punto di vista dei sistemi di ricarica allora ogni giorno si sveglia uno e se ne inventa uno nuovo e forse voi prima diciate abbiamo le colonine ma saranno aggiornate il mese prossimo e il mese dopo ancora allora per cui in questo panorama altamente variabile volevo un attimo fare il punto con una posizione formale che è quella dell'ANIE che ha cercato di raccogliere un po' e cercare di limitare la nascita di nuovi standard nuove prese e quant'altro allora vabbè a parte una carellata su le tipologie di veicoli qua ho tagliato perché era pressoché infinita nel senso che ce n'era veramente una serie notevole ecco è di maggio per cui magari è indietro di qualche cosa allora nel senso che voleva essere un survei della situazione capire quali mezzi quale tipologie di prese montano e quali potenze potrebbero aver bisogno durante la fase di carica lo trovate su internet sul sito dell'anie adesso io ho tirato fuori dei pezzi giusto per capire un attimo quali sono le tecnologie dal punto di vista della ricarica e le prese disponibili allora le tipologie sono sostanzialmente quattro quelle su cui ci si sta orientando in questo momento la cosiddetta ricarica normale per cui a partire da un monofase di 16A è la presa di casa una ricarica accelerata monofase 32A una ricarica veloce scusate o 32A trifase oppure 50A in corrente continua piuttosto che la carica rapida nell'intorno ai 50KW a partire da una presa 63A trifase oppure in corrente continua per cui da questo punto di vista si lasciano aperte entrambe le vie sulla rapida e veloce e rapida insomma sulle cariche accelerate si tengono ancora aperte sia la via continua che la via in alternata è chiaro che voglio ben vedere che si mette a bordo un caricabatterie da 50KW per ricevere l'alternata per cui se la tengono aperta la via ma non ho idea del perché se comincia a diventare un oggetto ingombrante e pesante che a bordo del mezzo è difficile far restare le durate ovviamente vanno con la potenza disponibile per cui a pari pacco batterie per cui con 25KW di energia a bordo ci metto 8 ore con quella standard e via via vado calando al crescere della potenza che ho a disposizione dal punto di vista delle modalità allora abbiamo il cosiddetto modo 1 che parte dalla presa convenzionale per cui ho un unico cavo su cui c'è la tensione alternata che è la prolunga che si usa per il ferro da stiro né più né meno non devo fare nient'altro che attaccare la spina alla presa muro abbiamo un modo 2 che oltre a mettere la prolunga inserisce anche un contatto pilota in modo da discriminare quanta potenza io abbia a disposizione a terra in modo che se io ho a bordo un caricabatterie in grado di assorbire fino a 6 kilowatt io riesco a riconoscere se la rete me ne può dare 3 o 6 e quindi assorba di conseguenza più o meno potenza a bordo del mezzo modo 3 invece ancora una volta connessione in alternata e un altro segnale che mi fa parlare con caricabatterie ovviamente tutti questi sistemi diciamo che prevedono un po' di intelligenza a bordo veicolo sono pensati nell'ottica che se non ho un'intelligenza dall'altra parte vado al minimo per cui c'è una certa ridondanza e sicurezza piuttosto che il modo 4 che è la connessione direttamente in continua ad esempio chademo dove arrivano a 50 kilowatt solo se siete a 400 volt con la batteria per cui il 50 kilowatt è sempre un limite superiore al quale si può arrivare giusto per fare il conticino della serva se voi fate 50 litri di benzina e ci mettete 10 minuti vuol dire che voi avete un flusso di potenza al distributore di 2 megawatt per cui stiamo parlando comunque di ordini di grandezza differenti questo è un conticino della serva che però dà l'idea di quanta potenza gestiamo solitamente al distributore e anche di quanta ne buttiamo via nel senso che se faccio un pieno così è vero ci metto più tempo ma metto a bordo poca energia rispetto a quella che metto di solito con la benzina dal punto di vista dei connettori trovate qui una una carellata dei connettori attualmente esistenti e un po' più diffusi per cui diciamo che come è stato fuori anche stamattina quelli su cui si sta tendendo sono Shade More e Combo 2 questo in continua e questo in entrambe le versioni quindi sia continua che alternata ne esistono poi di altra natura ma un po' meno diffusi ok quindi con questo chiuderei l'intervento di stamattina spero di non avervi annoiato troppo e se c'è qualche domanda se c'è qualche domanda se no penso il canto io penso sicuramente c'è tutti la domanda a mangiare e l'intervento